mi sentite ciao sarà piacere di conoscerti si sente comunque un attimo di tempo per far partire l'audio il video si si tranquilla come stai cosa porta qui oggi allora sono interessata all'ambito in quanto sono lavorato nell'ambito far del di un'azienda farmaceutica e in particolare la figura del regolatore di affaires è una delle figure che conosco un po meno e che mi interesserebbe un po per condire a livello di conoscenza ok ai tre valori guida il coraggio perché se l'unica che si è fatta vedere quindi altra i valori guida il coraggio qualcun altro si può vedere ha dato il broadcast a tutti quindi potrei anche farvi vedere ragazze ciao mariana ciao avete tutti quanti broadcast quindi potrei farvi vedere tutti intimiditi ciao cara ciao ciao un attimo solo dimmi che sei venuta perché sai che facevo io lo speaker ho detto così sapevo no non solo dai anche va bene dai una botta da sostino allora vai tra un paio di minuti partiamo ok anche se mi piacerebbe di sentire anche qualche altra voce non sono maria Elena che è già stata mia studente ma cosa ci sia qualcuno sì a parte Sara che si è lanciata quindi abbiamo capito che il valore guida di Sara il coraggio tanto sarà una cosa veloce non è che vi faccio regolazione vera e propria ok no no vabbè cioè in un'ora cosa vogliamo parlare di regolatore in un'ora cioè facciamo ciao buongiorno come mi chiamo e basta in un'ora di regolatore non si fa niente in un'ora ma vi racconto un pochino dai allora come mai siete qui mi ha fatto un po' di continuare a dare broadcast come se non ci fosse un umano niente tutti intimiditi a parte Sara e Maria Elena va bene allora rompo io il ghiaccio prima di farvi vedere la presentazione chi di voi oggi ha preso non so un farmaco qualcosa che è un po' smal di testa qualcuno che ha messo le lenti a contatto crema dai qualcuno ha la messa la crema qualcuno che ha preso un integratore qualcuno che non so si è misurato la temperatura questi sono tutti esempi di prodotti che subiscono approvazione regolatoria quelli che vi ho citato ovviamente che siano prodotti farma hanno un tipo di approvazione che è diversa anzi quelli farma hanno proprio un'approvazione regolatoria mentre invece quelli non farma hanno un'autorizzazione scusate non solo una registrazione quindi fondamentalmente che cosa fanno gli affari regolatori sono dei piccoli eroi silenziosi che vi hanno permesso di mettervi il trucco stamattina che vi hanno permesso gli riposti sbronza no beh che è tanto durante la settimana quindi su un po' sbronza di prendere una bella spirina e un po' sbronza o di prendere un bel antidolorifico quando state male quindi fondamentalmente gli affari regolatori si occupano di questo di fondamentalmente permettere l'approvazione dei prodotti che rientrano in quello che si chiama l'ambito life science ciao Michela l'ambito life science è tutto quell'ambito dove ci sono i prodotti che sono prodotti più particolari e che quindi prima di essere messi in commercio sono prodotti che vanno autorizzati oppure registrati come minimo oh ragazzi interrompietemi pure ritemi qualsiasi cosa datemi segnali di vita perché a parte Sara che è l'unica che mi si mostra grazie, grazie Sara ti prego non mollare rimani perché ho bisogno di parlare con qualcuno cioè mostratevi pure vi ho dato tutti quanti la possibilità di accendere le telecamere e fare domande e dire qualcosa quindi ovviamente la regola è datemi le tue io sono Lorenza adesso mi presento dai facciamo la presentazione classica ve ne ho preparata una ma è pochissimo allora se fossimo a lezione vi farei fare la presentazione ognuno di voi di se stesso ma non siamo a lezione se facciamo la presentazione di ognuno di voi ciao finiamo tutta l'ora allora io chi sono? io sono Lorenza non bevo da un giorno non è vero non bevo in realtà mai allora di cosa mi occupo? io sono Lorenza e se mi potessi descrivere mi descriverei tramite i miei valori anzi mi descrivo mi descrivo tramite i miei valori i miei valori guida è il coraggio l'amore per il sapere e l'onestà sono i miei tre valori guida che cosa faccio nella vita? tantissime cose dal docente al master al malaboris nell'ambito degli affari regolatori adesso anche nel corso in affari regolatori quindi il corso di attra specializzazione ciao Maria Luisa adesso ti vedo mi occupo in realtà di fare anche il career coach e l'orientatore professionale per chi è perso non sa che cosa fare nella vita e mi occupo anche di fare il formatore in realtà mi occupo di qualsiasi cosa mi piaccia mi interessa sono in partita IVA quindi chiunque mi dice facciamo una cosa che ti interessa a me piace dico di sì forse anche un corso di ballo quindi io faccio tutto quello che mi diverte ecco magari Luisa una cosa che ti vuoi chiedere di chiudere il microfono perché c'è rimbombo no no poi se vuoi parlare sì però c'è rimbombo quindi la frase che mi descrive di più è quella di Einstein la misura dell'intelligenza è data alla capacità di cambiare quando necessario infatti io nascevo fino a un anno e mezzo fa nell'ambito farmaceutico ho fatto quality assurance poi ho fatto regolatorio dal 2009 fino all'anno scorso adesso continuo a fare regolatorio in maniera di consulenza ma facevo anche il manager poi ho capito che non volevo più fare il manager ho ottenuto la parte di management che mi piaceva ovvero fare il potenziamento delle persone il coaching e quant'altro e sono diventata coach orientatore professionale e la formazione quindi poi tutta la parte che non mi piaceva che era quella aziendale mi sono tenuta il resto cos'altro raccontarvi? che cosa fa il regolatore affaires? quindi abbiamo detto sono i piccoli eroi silenziosi che sono lì nelle scrivanie con i topini là dietro a fare cose a scrivere documenti a permettere a ognuno di noi avere una vita migliore dall'acetone anche per le unghie perché anche l'acetone delle unghie subisce un'autorizzazione regolatoria i medical device quali esempi vi vengono in mente i medical device i dispositivi medici? vai, sparate non è mai giusto né sbagliato ma si accettano tutte le soluzioni quindi vai ciao Chiara sono alcune delle mie studentesse sì, sono collegato all'auto solo quindi ascolto ma non riesco a interagire poco non fa niente va bene lo stesso sono rientrando a casa così è ok va bene dai qualcuno che non sia le mie studentesse già che sanno i dispositivi medici dai un esempio di dispositivo medico io non so una cosa per la pressione esatto le siringhe poi che altro esatto esatto poi Vanessa ci dice un iniettabile è un medical device ad esempio è un iniettabile come un filler sì può essere un medical device un filler dipende da come è stato classificato ma può essere un medical device un altro medical device che mi viene qualcuna di voi ha fatto la depilazione laser è un medical device il laser quindi i bastoni le stampelle queste cose anche quelli anche quelli sono medical device carrozzelle esatto quelli sono medical device poi ovviamente farmaci o meno male più o meno avete idea di cosa sono i farmaci quelle robe che senza a volte prescrizioni non potete prenderli Maria Elena si ci ricorda anche per i medical device cerotti e tiringhe e poi per esempio ci sono i solventi che anche questi entrano in registrazioni regolatorie esistono anche poi i prodotti come i prodotti alimentari i prodotti per bambini sono tutti prodotti che subiscono autorizzazione o approvazione regolatoria la differenza tra approvazione e autorizzazione cioè scusatemi tra approvazione e registrazione è che l'approvazione prevede che ci siano analisi dei documenti e un'approvazione con detto sì no registrazione vuol dire che tu mandi i documenti e vale silenzio assenso quindi già sono due concetti regolatori estremamente diversi nel farm raramente esiste silenzio assenso è quasi tutto autorizzato il farm di per sé è qualcosa di diverso dagli altri proprio per la particolarità dei prodotti infatti quali sono stati ad esempio le situazioni che hanno fatto nascere secondo voi il regolatorio già vi faccio fare l'esercizio volevo farla alla fine ma vi voglio carica adesso dai quali sono gli esempi di regolatorio che hanno cioè gli esempi che hanno fatto nascere la regolamentazione sui farmaci il primo sarà quello del talidoide il classico credo esatto un farmaco che crea degli eventi avversi per cui da lì si è iniziato a dare delle indicazioni per l'approvazione esatto perfettamente grazie è nato non proprio dal talidoide specifico ma sono stati i grandi errori che hanno fatto capire che il farmaco non poteva essere messo sul mercato senza una reale valutazione una delle altre cose che era successo è stato per uno sciroppo a base non mi ricordo di che negli anni 30 addirittura chiaramente devo chiedere di silenziarti però scusami negli anni 30 in FDN gli Stati Uniti c'è stato il primo prodotto che è stato messo uno sciroppo per bambini fece più di 100 morti e quindi capirono che forse questi prodotti qui non potevano essere più fatti nel catino di casa così tipo avete presente la frusta usata manuale quando avete fatto la crema esatto non ho capito forse non potevano più essere fatti così e quindi sono state fatte delle valutazioni un po' diverse quindi cosa fa gli affari regolatori si occupa di tutto questo questa frase è bellissima la volevo far fare sulle magliette mie del mio team quando facevo ancora il manager in azienda che era essere un affari regolatori è facile è come guidare una bicicletta ad eccezione che la bicicletta è in fuoco tutto attorno a te sta andando a fuoco e tu sei all'inferno effettivamente gli affari regolatori è una posizione estremamente complicata oggi vi farò il parallelo anche con ieri e vi farò il parallelo col futuro che non sono ancora leggente ma presumibilmente sarà ancora più complicata quindi la figura degli affari regolatori ieri com'era questa figura in realtà era una figura poco più che cioè più amministrativa in termini in cui la persona del regolatorio prendeva i documenti e li mandava all'autorità basta qualcuno scriveva questi documenti intorno stiamo parlando che il regolatorio come si fa adesso esiste da 6-7 anni quindi io sono stata tra le prime a fare regolatori nel 2009 le aziende stavano appena appena mettendo le figure dei regolatori più o meno 2009 tra 2005 e poi sono nate diciamo le figure del regolatore un po' come esiste oggi ed erano praticamente poco più che segretari segretari amministrativi che mandavano i documenti scritti da qualcun altro la cosa divertente è che io che sono dell'82 vi dico che il benzene il benzene che è cancerogeno di classe 1 è stato dichiarato cancerogeno di classe 1 nel 97 il benzene è uno dei solventi che era più utilizzati nelle aziende farma negli anni passati soprattutto nell'ambito della produzione dei principi attivi e quindi vi dico che in quegli anni lì altro che vaccini con infetti morti peggio c'era direttamente il benzene e quindi siamo stati cresciuti a pane e benzene e tutto il resto poi li vedremo sulla lunga percorrenza i danni della mia generazione questo per dirvi che non era una figura che aveva particolare attenzione dal punto di vista pratico nel senso che non doveva guardare la documentazione non era il suo lavoro praticamente raccoglieva le info gli scriveva qualcun altro e mandavano ma era normale che fosse così grazie che vi sto dimostrando sempre di più non aveva nessuna formazione tecnico-scientifica come vi dicevo erano poco più di segretari amministrativi che mandavano i documenti in giro non avevano neanche qualifiche particolari ho conosciuto regolatori che erano magari diplomati in ragioneria ma vi dico anche che la documentazione che si scriveva al tempo era molto molto stringata stiamo parlando di 15-20 pagine di dossier registrativo oggi avete idea di quante pagine è un dossier registrativo? sparate un numero anche centinaia è stata molto bassa bassissima 60 io ho visto cose di 3000 pagine che modulo? il modulo 3S forse hai visto? ah sì ah giusto solo un modulo solo alcuni moduli allora attualmente il CTV che è il documento tecnico-regolatorio per permettere la registrazione di un farmaco in Europa poi non vi parlo del resto del mondo uno perché non lo conosco tutto perché siamo 180 nazioni quindi sono 180 tipi di registrazioni diverse questa è una delle complicanze regolatorie ma non solo vi dico che in Europa parliamo di un farmaco si chiama innovatore quindi quelli che non sono generici parliamo di anche 10.000 pagine quando prima tutto il dossier registrativo sarà stato tipo 15-20-30 pagine quando era lungo quindi il dossier registrativo è anche estremamente molto molto complesso esistono tanti tipi di figure nel regolatorio e al tempi non esisteva proprio nessuna differenziazione erano poche info venivano raccolte e venivano mandate questo vi fa capire anche che l'autorità stessa non aveva particolari qualifiche perché ovviamente non essendo chissà che cosa questa documentazione veniva guardata e fondamentalmente si metteva il timore di produzione ma poi stiamo parlando ancora fino al 2004 3-4 non stiamo parlando di Marte io andavo all'università in quegli anni lì e poi che cosa è successo la responsabilità unica era di inviare i documenti quindi proprio a livello amministrativo la figura oggi la figura oggi è un filino cambiato allora prima di tutto queste sono la lista delle aziende che usano il regolatorio quindi un settore molto grande quello del life science aziende farmaceutiche quindi producono il prodotto finito il prodotto finito si intende la scatola la spirina post-sbronza l'antidorifico eccetera eccetera in varie forme farmaceutiche potete pensare ci sono gli iniettabili ci sono gli iniettabili ci sono i sacchetti ci sono le compresse e via dicendo possono essere le aziende definite titolari oppure no di quella che è l'autorizzazione perché perché l'autorizzazione a essere immessi sul mercato che si chiama IC adesso andate a prendere tutti quanti una scatoletta e guardate c'è scritto il numero di IC e vuol dire che là c'è il sangue di un regolatorio è fatta col sangue di un regolatorio quell'IC c'è un regolatorio ogni volta che trovate un IC c'è un regolatorio che ha pianto lacrime amare là dietro ora scherzi a parte nell'IC che è l'autorizzazione all'emissione in commercio non è detto che l'azienda sia produttrice esiste la grandiosa doc generici che non produce il più grande genericista d'Italia non ha siti produttivi ma è titolare di autorizzazione all'inizio in commercio ha un tipo di regolatori poi c'è l'azienda che produce per conto terzi ha un tipo di regolatori diversi poi c'è l'azienda che produce tutto per se stessa ha un tipo di regolatorio c'è l'azienda che fa solo principi attivi ha un tipo di regolatori diversi ci sono quattro tipi di regolatori poi abbiamo le cosmetiche poi abbiamo quelli alimentari poi abbiamo medical device e poi abbiamo le chimiche perché anche per esempio il solvente per le unghie è un solvente che subisce approvazione regolatoria o comunque autorizzazione quindi questo per farvi giusto capire che il regolatorio è in crescita ma in maniera più che esponenziale sono figure poco presenti e normalmente a un certo punto devono formarle per cui in realtà vi dico già che accettano anche persone con pochissima esperienza vi chiedo solo di togliere l'audio poi quando volete parlare parlate pure però se non dovete parlare mi va in rimbombo sotto quindi vi chiedo di fare attenzione all'auto e scusatemi ho spostato un'altra Lorenza tra volevo solo darle il broadcast l'ho commessa tra i partecipanti scusa quindi il mondo regolatorio è un mondo stra in crescita sta in crescita perché il mercato del farma è in crescita quindi il regolatorio è in crescita vantaggio di stare nel regolatorio adesso vi racconto un po' bene la figura vantaggio di stare nel regolatorio e vi accorgete della fine che farà l'azienda da lì a breve termine 5-6 anni almeno perché vi dico già che per ottenere un IC ci vuole un anno e mezzo quindi se un'azienda se un'azienda ottiene l'IC almeno venderà per i prossimi 3-4 anni quindi io vi ricordo che un'azienda è collaborata mi sono accorta che avrebbe avuto problemi tipo appunto 4-5 anni prima perché avevo visto caduta delle registrazioni regolatorie quindi effettivamente 4-5 anni dopo quell'azienda ha avuto problemi quindi questo è il superpotere del regolatore se sapete leggere le carte capite tutto è una figura che riceve informazioni da tutti quindi è un po' un tuttologo che però non sa niente nello specifico perché adesso vi spiego anche un pochino i documenti che fanno parte del CTD del documento regolatorio sono tanti e quindi non potete conoscerli tutti le responsabilità quali sono? gestire rapporti con l'autorità prima il regolatorio non aveva questi grandi rapporti mandava i documenti e finiva tutto lì oggi gestisce i rapporti l'autorità ti scrive ti chiede tu fai da intermediario questo già vi dice che tipo di competenze deve avere capacità di negoziazione un regolatorio senza capacità di negoziazione è un regolatorio finito anzi non inizia proprio dovete saper negoziare per l'azienda perché tutto è negoziabile anche ciò che non è negoziabile quindi anche se vi dicono questa è la tempistica di introdurre o devi dare potete sempre chiedere un'estensione e ruolo di tamburi il 90% delle volte ve la danno anche le estensioni quindi ricordatevi che dovete avere capacità di negoziazione poi dovete fare quella che si chiama la compliance quindi i documenti regolatori sono scritti e devono essere conformi ai documenti interni all'interno del ripartimento regolatorio dipende da quante grande la compliance la può fare anche una persona specifica ovviamente immaginato un dipartimento di regolatori di un'azienda gigante come Roche non può essere lo stesso dipartimento regolatorio di un'azienda che fa 200 dipendenti Roche ai tempi contava qualcosa come 20-30 persone solo per l'Italia solo per Monza solo per Monza quindi all'interno del suo gruppo sicuramente avrà chi si occupa di compliance c'è addirittura solo chi manda documenti all'autorità che oggi non si fa più niente in cartaceo e tutto in elettronico l'altra parte del lavoro che fa il regolatorio è recepire le normative aziendali vuol dire qualcuno dice è uscita questa nuova legge in genere è l'EMA l'European Medicine Agency oppure l'AIFA ma in realtà è sempre l'EMA che aggiorna delle cose quindi l'AIFA le tue pisce quindi fa gli aggiornamenti di legge e le persone vanno nel regolatorio prende e guarda che cosa c'è che cosa c'è di impattante sull'azienda vi faccio un esempio nel 2018 circa c'è stato un problema con i sartani è nato tutto il discorso di introsammine e dopo poco l'autorità hanno emesso linee guida sul fatto che bisognava controllarle quindi compliance regolatoria andare a dire all'azienda guarda è uscita questa linea guida sui sartani e scusatemi sulle nitrosammine bisogna andare ad aggiornare la documentazione e a produrre dati per dire se abbiamo un rischio di nitrosammine oppure no quindi questo è un grano lavoro per i regolatori sia nel fare nell'organizzazione ma anche nel dover andare a dire all'azienda devi spendere più soldi per questo è un lavoro che ci vuole quello sullo stomaco a fare regolatore come vi dicevo per questo all'inizio ho messo quella vignetta che è come essere nel fuoco e tu sei all'inferno perché sei odiato fondamentalmente da tutti sei odiato dalle autorità perché rappresenti le aziende sei odiato dall'azienda perché rappresenti l'autorità interna e poi ti odiano tutti perché sei quello che devi andare a dire devi fare quelle cose così devi fare le cose così e quindi fondamentalmente è un lavoro che dovete avere prego sullo stomaco grande capacità di regolazione grande capacità di rapportarvi con gli altri perché con chi interagisce il regolatore o con tutte le funzioni aziendali e questo vi rendo di api da tutti mi ricordo che quando c'erano da fare delle cose arrivava sempre il collega di turno che poteva essere o di produzione o del dipartimento logistico o del dipartimento di controllo qualità e mi diceva perché tu non mi vuoi far fare le cose e io dicevo no non è vero che non le voglio far fare io te le faccio fare ma dobbiamo fare delle procedure perché il regolatore stabilisce come fare le cose non dice di no dice lo possiamo fare e dobbiamo fare questi passi è molto procedurale il regolatorio mi ricordo e mi diceva sempre che tu che non mi vuoi far fare le cose io me che me frega è l'azienda che ti obbliga a fare queste cose ciao Anton quindi interagisce con tutti per cui il regolatorio in termini di soft skills che competenze deve avere ve le registrate qui senso critico quando vi arrivano le domande che siano dell'autorità o delle anzi in realtà le domande dell'autorità sono quasi sempre con un senso logico più dei clienti non sono con un senso logico quando vi arrivano le domande del cliente dovete domandarvi se le domande che vi sta facendo sono domande che Anton ti devo chiedere di silenziarti perché sennò fare un bombo quando le aziende quando scusatemi il cliente fa delle domande voi dovete capire se le domande hanno un senso perché molto spesso le domande del cliente non nascono da un reale bisogno regolatore ma magari più dalla paura di essere fregato ve lo dico per esperienza a me è capitato tra quei clienti magari perché avevano paura che di perdere l'autorizzazione io lavoravo in un'azienda che faceva principi attivi quindi lavoravo con tutersi fondamentalmente noi vedevamo l'attivo alle aziende farmaceutiche mi capitava che il mio cliente che produceva finito mi diceva io ho paura che l'autorità mi chieda sta roba quindi in anni questo e io dovevo andare a chiedere internamente di fare dei lavori che costavano mesi di lavoro alle persone perché il cliente era spaventato queste cose ovviamente non è che il cliente veniva e ti diceva io sono spaventato quindi dammi queste cose ovviamente era tutto subliminale lo capivo io quindi con il mio senso critico mediavo e dicevo all'azienda sì veramente questa cosa serve no non serve quindi senso critico fondamentale nel regolatore il senso critico una cosa che io facevo ai colloqui era testare il senso critico delle persone problem solving il regolatore risolve problemi per tutti cioè voi arriva chiunque e dice guarda ma io voglio fare questa cosa la voglio fare entro ieri si può fare no entro ieri no ma la possiamo fare entro tra due giorni e quindi è ragionare su come fare le cose e quindi dovete trovare soluzioni e più siete bravi a fare problemi solvi più verranno da voi a chiedere ma il vostro lavoro il regolatore deve saper risolvere il problema pensiero strategico non può essere io faccio questa azione e vabbè poi forse chissà se va bene no strategia qual è il mio obiettivo registrare o tranquillizzare il cliente allora diventa una scelta sono veramente carente su questo aspetto Giulia ti devo chiedere di abbassare l'audio di chiudere l'audio sono veramente carente io come azienda su questo aspetto del prodotto allora sì faccio qualcosa e attivo l'azienda no non lo faccio quindi a seconda di quello che è la situazione bisogna quindi avere pensiero strategico quindi veramente puoi dire all'azienda sì dobbiamo farlo perché effettivamente se non lo facciamo è un problema quindi assolutamente assolutamente senso critico poi leggere tra le righe come vi dicevo prima leggere tra le righe è semplicemente che il cliente vi dice che va tutto bene ma in realtà sapete che il cliente in realtà è spaventato e quindi dovete capirlo tra le righe dovete capire tra le righe quando il collega non vuole fare delle cose perché nonostante voi avreste anche l'autorità di dire dobbiamo far così il collega non gliene frega niente di voi perché purtroppo il mondo ideale tutti vogliamo se bene tutti regolatori dice facciamo questo e tu ah sì scusaci regolatori noi facciamo quello che vuoi tu ma il mondo reale non è così il mondo reale ci puoi far risparmiare soldi ci puoi far risparmiare tempo possiamo fare questa cosa senza che nessuno se ne accorga quindi il mondo reale è che dovete capire che cosa è l'obiettivo dell'altro non è detto che sia il vostro dovete essere curiosi perché il regolatorio è difficile perché per trovarvi le informazioni dovete saper smanettare come dico sempre non smetterò mai di dirlo internet non è solo il posto su instagram per rimorchiarsi le tipe e su tinder idem imparate anche a trovarvi le informazioni sui portali ufficiali molte persone in regolatorio non si hanno usato i portali ufficiali questa è una cosa gravissima dovete sapere trovarvi le informazioni le linee guida dovete sapere di trovare le informazioni e che devono essere autorevoli ovviamente non può essere bufala.it perché se portate la citazione di bufala.it l'autorità ve la vita indietro quindi mi raccomando le fonti autorevoli quindi dovete essere curiosi e dovete sapersi cercare che sono due cose che non sono così scontate come vi dicevo all'inizio capacità di negoziazione assoluta dovete saper negoziare dovete essere assertivi assertivi che cosa significa? significa saper dire il vostro punto di vista considerando anche quello dell'altro perché vi troverete proprio per saper negoziare di dover essere assertivi fondamentalmente voi direte che all'azienda dobbiamo fare questa cosa e l'azienda vi dirà ma io non vorrei farla e voi dovete dire capisco che tu non vuoi farla perché andiamo a perdere tempo a spendere soldi ma dobbiamo farla perché questo è un esempio di comunicazione assertiva in ultimo fondamentale è la capacità di influenzamento quindi voi dovete saper convincere gli altri che il vostro obiettivo è veramente un obiettivo che ha un senso tutto questo vi sembra molto strano molto scontato ma in realtà per chi lavora sa già che questo non è scontato né banale dovete quindi saper fare queste cose per fare regolatorio queste sono solo le soft che sono le più difficili le hard sono le cose più semplici in realtà le hard basta studiare le linee guida conoscere normative conoscere processi aziendali quindi come funziona azienda conoscere i ruoli aziendali conoscere magari i prodotti che state utilizzando i mercati di destinazione la mentalità dell'autorità perché anche a seconda del tipo di azienda di realtà in cui è andata a comunicare può esserci una enorme enorme profondissima differenza ad esempio un'autorità come quella cinese io ho lavorato con parecchie autorità del mondo è completamente diversa di approccio da un'autorità come quella statunitense quindi l'autorità cinese mi faceva le virgole e non sto scherzando le virgole e le pulci su cose magari meno di concetto FDA magari ti lascia passare delle sviste ma ti ammazza se certe cose molto più importanti molto più procedurali o più in cui va a impattare veramente il prodotto dovete avere cultura e mentalità regolatoria vuol dire che dovete essere sempre un passo avanti rispetto agli altri dovete avere strategia che quindi non è io porto a casa questa registrazione e basta ma se io porto a casa questa registrazione qual è l'impatto poi su quelle future perché ad esempio se io ho vari tipi di prodotti associati a quella registrazione se perdo quella registrazione che cosa succede agli altri prodotti che sono associati a quella registrazione quindi domande più a lungo termine mentre lavoravo in questa azienda l'ultima una delle ultime che ho lavorato avevo un prodotto principio attivo sempre lavorato sempre in aziende di attivi perché io volevo fare regolatore di attivo perché regolatore di attivo a me non mi piaceva lo trovo troppo noioso il regolatore di attivo invece è più sfidante è più complicato e quindi mi divertivo di più nel regolatore di attivo aveva un prodotto attivo che era in varie due formulazioni diverse una a dosaggio più alto e una a dosaggio più basso quella a dosaggio più alto veniva presa una volta ogni tanto quella a dosaggio più basso aveva una indicazione terapeutica continuata nel tempo di 3-4 mesi la forma farmaceutica a dosaggio più basso si era visto che dava proprio per il fatto che veniva presa a lungo termine effetti epatotossici ad esempio io quando ho letto l'EMA che si era pronunciata contro questa forma io sono andata dall'azienda e ho detto abbiamo altri clienti sulla stessa forma che cosa vogliamo fare? sappiate che l'EMA ha bloccato questo prodotto quindi sebbene a me nessuno mi avesse detto fai questo passaggio io proattivamente sono andata perché avevo una mentalità regolatore strategica subito ad allertare le aziende a dire questi clienti con questa registrazione sappiamo che se continuano per questa strada gli infilano la registrazione a loro e quindi noi perdiamo tempo che cosa vogliamo fare? quindi il compito del regolatore è anche allertare l'azienda prima che succedano queste cose perché hai il tuo lavoro sapere quello che sta succedendo quindi è proprio una mentalità quella regolatoria la figura degli affari regolatori domani questi sono oggi domani papriamone qualcuno lo sa che cos'è il 4.0 così vedo se siete svegli nessuno sa che cos'è il 4.0 quarta rivoluzione industriale sarà una trasformazione digitale una genocorrisa di un genere ancora vai non so allora il 4.0 è quello che stiamo vivendo noi siamo nella quarta rivoluzione industriale big data grandi informazioni digitalizzazione esatto Maria Elena delle imprese ma non solo telefono con questo che cosa ci facciamo io pago l'app del parcheggio entro online con lo speed faccio i pagamenti bancari chiedo faccio le ricette da mio medico questo è 4.0 digitalizzazione che non è soltanto aziendale è a 360 gradi è tutta la digitalizzazione stiamo facendo lezione online lezione chiacchierata online è digitalizzazione è 4.0 quindi questo come impatta sul regolatorio che scrive documenti che oggi funziona in questo modo le persone scrivono i documenti in word li passano in un formato che è quello pdf dal pdf il documento viene caricato in un software regolatorio che non vi sto a spiegare come funziona e questo l'output di questo software viene inviato all'autorità domani si arriverà che tutto questo passaggio non si sarà più fatto si scriveranno direttamente i documenti in portali specifici e app regolatoria per fare gli aggiornamenti non è così tanto lontano è tutto questo non è per niente lontano fda ha l'app ha cominciato ad avere l'app quindi il 4.0 entrerà e sta entrando a gamba tesa in tutti tutto il discorso aziendale e procedurale il regolatorio quindi ad oggi deve essere anche una persona in grado di usare la tecnologia il regolatore non può non sapere usare la tecnologia deve assolutamente saper usare la tecnologia ma meglio degli altri fondamentalmente quindi che cosa deve avere skills digitali skills digitali non significa solo rimorchiare su Instagram e su Tinder la gente che per carità anche quella è una skills perché dovete saper comunicare in poche righe io sto scrivendo il mio profilo Instagram seguita da una social media manager vorrei spararmi non so cosa scrivere infatti sono andata da lei perché vorrei spararmi tre righe così devo raccontare tutta la mia professione di coach tutti aiuto quindi anche quella è una capacità di rimorchio però anche lì ricordate che sul lavoro è uguale dovete sapere usare skills digitali per il lavoro e le skills tecnologiche quindi non è che un regolatorio non può sapere usare il computer dovete sapere usare meglio degli altri deve essere come si dice le adopter cosa sono gli adopter quando esce una nuova tecnologia ci sono i creatori poi ci sono gli early adopter poi ci sono gli utilizzatori medi poi ci sono gli utilizzatori ultimi io personalmente su instagram sono peggio degli ultimi perché ho cominciato un anno fa instagram assisterà da almeno dieci millenni infatti si vede non lo so fare per dirvi che un domani non è impensabile che l'EMA sia su instagram e condivida anche comunicati stampa hanno già le app hanno anche twitter alcune quindi sono early adopter della tecnologia bisogna essere curiosi sempre curiosità è il fondamentale del regolatore perché le novità non è che vi vengono a bussare alla porta ma pronto mi sto aggiornando la linea guida no dovete essere voi a sapere queste cose problem solving è fondamentale perché ricordatevi che è vero che la parte più procedurale diventerà più semplice nel senso tu scrivi delle cose in un formato e arrivano direttamente alle autorità si dice real time e questo semplifica tutta una serie di passaggi di informazioni ma crea degli altri problemi come gestisco internamente i flussi come faccio a fare questi cambiamenti perché voi quando vi trovate in queste situazioni a fare un lavoro del genere dovete portare internamente voi il 4.0 ma l'azienda non è in 4.0 e ragazzi tutte le skills di prima dovete usarle tutte perché se no voi rimanete bloccati voi mi direte sì ma l'azienda dovrebbe mettermi in grado di fare il mio lavoro certo nel mondo ideale dove gli unicorni volano nel mondo reale l'azienda cerca di andare al risparmio finché può quindi sta a voi far capire qual è il vantaggio nel fare quella cosa effettivamente la vita difficile la avete voi come regolatori non un'azienda questo vi dico è un ruolo molto sfidante e poi la fondamentale è la creatività più la tecnologia avanza più ci toglie delle cose ma più dovete essere creativi in realtà nel risolvere i problemi quindi almeno se non proprio la creatività meno il problema in sodio in creativo qualcuno si sente portato per questo ruolo è un ruolo bellissimo vi dico dovete impegnarvi ci fa tanto è uno secondo me dei ruoli più sfidanti che c'è in azienda e non solo perché l'ho fatto io ma perché è veramente un ruolo sfidante qualcuno è ancora vivo vai Maria Elena infatti confesso anche Maria Elena sta facendo la tesi di master in affari regolatori la seguo io quindi è una che non molla ma sì ma poi allora come dice Maria Elena le soft skills le sfrutto anche nel mio attuale lavoro soprattutto la pazienza allora in realtà queste soft skills magari ce le avete già ma non lo sapete neanche non lo sapete neanche perché ovviamente avete il problem solving solo che non lo sapete o non lo sapete contestualizzare per questo vi dicevo non è banale ad esempio anche rimorchiare su Instagram o su Tinder perché vuol dire che ha capacità di comunicazione se non è l'adopter della tecnologia perché la sai usare sì lo so ok Vanessa dice sono attualmente nel ruolo regolatorio e si tratta di un ruolo molto minumentato anche se sulla carta sembra che si mandino solo i metri non lo so lo so a me i regolatori li chiamano i passacarte ma è benissimo che non è un ruolo passacarte cioè sì in esterno sì perché l'output finale è il documento che esce sì però devi scrivere il documento tra l'altro come vi dicevo il ruolo regolatore è un ruolo che sa tutto ma non sa niente in profondità perché non può sapere tutto ho avuto una breve esperienza nell'ambito dell'operational quality e alcune delle caratteristiche comunque mi sembrano abbastanza simili nel senso il fatto di dover analizzare secondo senso critico comunque seguendo procedure o almeno in parte ci saranno dei punti in comune assolutamente non è infrequente che dal quality assurance si diventi regolatorio poi io non sono entrata nel dettaglio comunque il regolatorio è fatto diciamo di tre grosse parti la parte di sicurezza la parte di qualità e la parte di efficacia nella parte di qualità chi fa regolatore di qualità può essere spesso è un quality assurance infatti io sono iniziato come quality assurance e poi sono diventata regolatorio è una cosa molto comune quello che non succede mai è che tra per esempio qualità e efficacia e sicurezza ci si scambi perché? perché sono competenze hard troppo diverse esempio ecco chi fa il regolatorio di sicurezza ha competenze di tossicologia e chi conosce la tossicologia è molto più simile al regolatorio in realtà di ambito cosmetico rispetto a chi fa il regolatorio di qualità che è quindi quello del modulo 3 infatti io che sono nata nel quality assurance sono andata a lavorare poi in un'azienda che faceva il regolatorio di qualità che era appunto gli attivi ma io volevo stare nel regolatorio di qualità a me piaceva a me la tossicologia annoiava la clinica forse un po' meglio ma a me la tossicologia annoiava allora se ve la sentite vi do 5 minuti di ragionamento descrivetemi un evento che cambierà il regolatorio non i miei due ex alunni solo se inventate cose nuove provate a pensare potete anche ragionare ad alta voce non le dovete per forza potete anche scrivere in chat gli eventi che cambieranno il regolatorio pensateci pensate a quello che succede nel mondo cosa vi viene a mente potrebbe essere un attualissimo vaccino anticovid non so allora no con le realtà sono il vaccino covid in realtà si appoggia su una procedura che era già quella di emergenza quindi in realtà non ha cambiato il mondo regolatorio però poteva essere un'idea ci sta Sara non lo conosci il regolatorio ci sta che tu abbia detto qualcosa che comunque poteva averlo cambiato non l'ha fatto perché c'era già però era un buon buon insight brava allora il nuovo regolamento con la pandemia ha superinfluenzato molto il mondo regolatorio allora come ti dicevo Vanessa stessa cosa che a Sara il discorso no perché il covid la procedura abbreviata esisteva già ecco qua Maria Elena è lì la digital therapeutics terapia digitale oppure come dice Chiara la telemedicina oppure per esempio Neuralink Elon Musk gli elettrodi nel cervello allora ovviamente non abbiamo fatto lezione non vi ho spiegato adesso tutte le cose ma immaginate gli elettrodi nel cervello passano come farmaco o con medical device in teoria i regolamenti ah di medical device allora sì però non è il mondo del regolatore scusami hai ragione cambia hai ragione cambia il mondo regolatore dei medical device vero io pensavo al farm ma hai ragione sì quello sì hai ragione Vanessa i medical device stanno cambiando con il nuovo regolamento no no ma sono stata io che se pensavo a me al farmaco finito non te lo dico tu che ne sai non c'è nel mio cervello quindi no hai ragione sul regolamento dei medical device è nuovo il medical device è diventato una specie di farma per certi discorsi approvativi cosa che fino a poco tempo fa non c'era ad esempio uno sconvolgimento è stato l'introduzione della persona qualificata che è una figura che non esisteva nei medical device adesso esiste questa persona che deve gestire a livello anche legale il medical device quindi sì comunque pensate a Neuralink oppure le stampanti 3D magari un giorno con la stampante 3D si farà un cuore è un medical device è un farmaco come si registra e poi sarà fatto su persona specifica cosa registri registri la procedura di produzione del cuore o il cuore singolo quindi sono tutte domande che il regolatorio un giorno dovrà dare disposto ovvio non il regolatorio da solo il mondo regolatorio dovrà dare risposta sul tempo delle domande allora io mi sono anche impegnata ho fatto anche il QR code verità virtuali per la diagnosi assolutamente sì e vi lascio ho fatto anche il QR code quindi se voi scansionate adesso col QR code dal cellulare se siete dal pc vedrete tutti i miei contatti oppure addirittura vi lascio qua il QR code se ci cliccate sopra trovate tutti i miei contatti cioè io ormai sono high tech proprio all'inversibile e mi trovate ovunque Instagram dovunque anche su YouTube adesso ci sono e bene avete domande? dubbi? incertezza? considerazioni? adesso vi lascio fare tutte le considerazioni che volete volete parlare quanto volete adesso tutte le domine siamo rimasti ah no del rocco nessuna curiosità ma sì io ho una in realtà vai Chiara un paio di annetti pre-covid partecipai a un congresso dedicato al glaucoma perché parlavo appunto di realtà virtuale e il prototipo insomma l'idea di uno dei professori di uno dei relatori era quello di sviluppare una sorta adesso non mi viene il termine tecnico perché appunto sono più tendente al tecnoleso io che non all'early adopter quei dispositivi che si usano spesso nei videogiochi quindi sì per la realtà virtuale ma anche eventualmente per improntare la nuova diagnosi nei pazienti lì era incentrato sul problema del glaucoma quindi sulla patologia del glaucoma quindi tutta la raccolta dati dedicata al campo visivo insomma tutto quello che gravita intorno alla patologia ma in questo caso specifico poi ovviamente viene registrato come medical device perché ovviamente diventerete a tutti gli effetti un medical device ma nel momento in cui si trappone anche il collegamento con il medico che da remoto gestisce il paziente con la sua terapia farmacologica con una sorta di telemedicina integrata al dispositivo non so se rendo l'idea è una bella domanda se vuoi unirsi in un unico meccanismo è bella domanda da un lato si viene registrato come medical device ok perché è uno strumento non c'è il farmaco di mezzo d'accordo e poi il paziente immagino deve essere gestito da qualcuno dall'altro lato che presumo sia il medico solo il medico o al massimo un tecnico un ortodista non saprei e lì come si combinano le due realtà sono due percorsi di registrazione differenti a quel punto vengono combinati ah bocchi lo sa è una bella domanda assolutamente non te lo so dire potrebbe essere anche scelto di procedurizzare cioè di registrare la procedura perché ad oggi non si registra la procedura ad oggi si registra un prodotto ok giusto giusto perché lì era nata anche l'idea di un'applicazione quindi formulare un'applicazione ad hoc che ogni paziente e quindi medico scaricava ovviamente c'era un accesso esclusivo accesso a count per il paziente accesso a count per il medico però lì avveniva poi chiaramente il dialogo poi è un progetto che è andato avanti non so se poi è finalizzato oppure no in collaborazione che appunto con la facoltà di ingegneria informatica dell'università perché chiaramente era una collaborazione nata in amicizia tra la dottoressa e il suo contatto all'interno dell'università però sì appunto l'unico modo è procedurale non si arriva a registrare la cosa fatta e finita eh no ma infatti è quello che dicevo anche sul cuore se tu fai un cuore un organo in 3D cosa vai a registrare cioè non puoi registrare il prodotto cuore secondo me ha senso registrare la procedura di produzione del cuore e quindi devi fare un cambio ad oggi tu registri un prodotto cioè io faccio l'aspirina registro l'aspirina non registro la procedura di produzione di tutte le compresse quindi questo sarà da valutare magari perché nel caso della procedura di produzione di un cuore o di una telemedicina non puoi andare a registrare cioè sì ok magari è la coma però poi se non è la coma quindi no infatti lì ripeto era nato specifico per la patologia perché c'era tutto un progetto dietro però effettivamente potrebbe essere utile per qualunque tipo di problematica cioè da remoto si arriverebbe ecco appunto si approccia al discorso della telemedicina poi in questo senso più generico sì ok allora Vanessa la tua domanda sì magari sì però la cronoplastica che io non so neanche cosa sia penso che avviene sia un impianto una produzione di impianto osseo da mettere nel cranio questo intendi? e allora in quel caso tu stai facendo medicina rigenerativa però stai facendo un pezzo quindi è una cosa singolo paziente ma se io metto giù una stampante 3D non sto prendendo delle cellule le sto mettendo in coltura e sto facendo una cronoplastica sto producendo un sistema in grado di fare cuori per chiunque quindi è più largo il discorso quindi non lo so potrebbe essere un medical device particolare la produzione di un cuore 3D però non lo sappiamo ancora comunque non può essere trattato come un medical device qualsiasi questo fondamentalmente mi è piaciuto farvi ragionare su come il futuro impatta anche sul regolatorio quindi il regolatorio è una figura in continuo cambiamento tra l'altro una delle cose che non vi ho detto ma è una mia antra vita ricordatevi che se entrate a fare regolatorio se volete rimanere sul mercato del lavoro dovete continuare a formarvi che non sia soltanto la formazione aziendale se te la danno ma piuttosto fatevi anche dei corsi esterni perché oggi nel mondo del lavoro campa chi si forma chi si rende sempre rivendibile oppure si dice employable in inglese dovete essere sempre employable e come siete employable mettendovi in gioco facendo cose nuove e studiando continuamente altrimenti poi arrivate a una certa età che siete nel mercato del lavoro che potete rivendere non ci riuscite perché avete fatto il regolatore sempre lo stesso modo per tutta la vostra vita e quindi nessuno vi vuole è capitato di fare un colloquio in cui io sarei dovuta andare a gestire un gruppo che aveva fatto sempre lo stesso tipo di regolatore non aveva mai cambiato azienda io dovevo diventare il loro manager quando ho capito il tipo di gruppo che era dissi no io non ci leggo non sono il manager adatto a questo gruppo perché lo sfascio in tre secondi io sono un innovatore sono una persona di cambiamento queste sono persone statiche e ho detto e poi che tipo di valore aggiunto possono apportare loro alla mia carriera professionale nessuno gente a cui non ho mai visto nessun'altra realtà quindi ricordatevi che il cambiamento vi serve per altri dubbi incertezze e infestità condivisioni dai chi è che vuole fare il regolatore adesso non c'è nessuna curiosità che mi volete chiedere vi ripeto il ruolo è molto bello è molto sfidante se ci avete voglia brava mi piace Maria Elena così ti voglio è un ruolo sfidante è secondo me uno dei ruoli aziendali più belli poi ovviamente ci dovete avere l'attitudine perché è una questione di attitudine se vi piacciono altri ruoli ragazzi ci sono mille altri ruoli nel mondo per forza dovete fare regolatorio perché a mio cugino ha detto che col regolatore si trova bene e si guadagna tanto perché è una questione di attitudini se vi diverte io mi sono divertita da morire quando mi hanno dato l'opzione di poter fare regolatore mi è finito me ne sono scappata Giulia che tipo di esperienza hai alle spalle se volete farvi una chiacchierata con me mi vedete pure contattati al privato vi aggiorno un po' sul ruolo regolatore non è un problema Giulia se vuoi parlare tanto adesso vai non so se non so se mi senti ti sento ma non ti vedo però già almeno ti sento ok ti vedo pure perfetto ciao allora sì ho ascoltato con molto interesse dicevo che ho un altro tipo di esperienza lavorativa finora perché mi sono occupata per alcuni anni di controllo qualità microbiologico in un'azienda cosmetica e da poco tempo invece mi sto occupando di informazione medico-scientifica quindi un altro ambito ancora diciamo che di aspetto comune per ora con l'esperienza del regolatorio mi sembra di poter capire che sicuramente le capacità come dire la capacità di negoziazione e di convincimento diciamo nel caso ovviamente qui si parla di medici però lì sicuramente si parla di altri di altri enti di enti regolatori e quant'altro possa essere un aspetto comune ovviamente gli aspetti tecnici mi mancherebbero perché non ho una formazione in quel senso per cui volevo capire meglio se per una persona senza esperienza ci possa essere modo di entrare in questo mondo allora guarda mi dai l'assist per fare il coach in questo momento quindi io sono stra felice il coach e l'orientatore la risposta è sì l'importante è già fatto una parte del processo tu hai identificato i punti in comune identifica i punti in comune e quando scrivi il CV li metti in evidenza e spieghi bene perché tu ti stai candidando per una posizione che non hai esperienza perché tu l'unica esperienza che non hai Giulia è l'esperienza regolatoria non è che tu non hai esperienza in generale hai esperienza di vita hai esperienza dei tuoi lavori precedenti quindi tu metti in evidenza tutte le schizze che hai guadagnato rispetto al ruolo regolatore e dici guarda sono cosciente che io non ho l'esperienza tecnica per questo ve l'ho divisa in due parti hard e soft skills ma le soft che mi servono per questo ruolo io le ho quindi perché non non provi a darmi l'opportunità a meno di sentirmi a colloquio quindi metti in evidenza quello che tu già hai rispetto a quello che serve anche perché te lo dico da persona che fa ancora a volte selezione per il conto di qualche cliente in ambito regolatorio quello che conta nel regolatorio al 99,9% è tutte le competenze soft perché insegnarti una linea guida insegnarti a fare certi passaggi non è complicato è molto però più complicato insegnarti a negoziare insegnarti ad avere senso critico quindi a parità di persona con esperienza ma senza senso critico una persona con senso critico ma senza esperienza andrà avanti sempre quella con il senso critico anche se che sembra strano non mi crederete ma in realtà è così perché nessuno si tira dentro una persona che non pensa soprattutto il regolatorio quindi ce la puoi fare solo una questione di strategia comunicativa ok più sei consapevole e più comunichi meglio e devi andare a target ovviamente certo certo no perché leggendo spesso gli annunci quello che magari un po' scoraggia appunto la richiesta spesso di esperienza di alcuni anni magari in quel settore quindi mi chiedo se non so sia un modo per come dire selezionare i candidati più motivati oppure se sia sempre così cioè appunto se cerchino sempre è molto più semplice ragazzi la linea dell'azienda spara la lista al 150% delle probabilità scrive è come l'uomo la donna ideale la voglio alta bella bionda con gli occhi azzurri poi me la prendo brutta che altro e poi gli occhiali chi se ne frega è sempre è il gioco delle parti l'azienda spara 8000 richieste ma poi nel pratico uno devi vedere quanta gente gli risponde perché tanta gente questa è una cosa che vi dico da coach vi auto-sabotate decidete di non rispondere agli annunci perché io ho sempre risposto a tutti gli annunci con la mia video faccia la culo tra l'altro risposto all'annunci che non c'entravo niente risposto all'annuncio per pari opportunità ho scritto una lettera di motivazione che mi sono data quattro pat pat sulla spalla una roba del tipo ho scritto perché io credo nelle pari opportunità sono figlia io sono di Napoli sono figlia di una donna che di una nonna che lavorava sono figlia di una donna che lavorava quindi le pari opportunità l'abbiamo sempre portate avanti storicamente come famiglia non mi hanno preso però l'hanno letta la mia lettera di presentazione perché era bella motivata quindi mi raccomando non dia cosa votate non partite dal presupposto che non vi sceglieranno date in modo prima di tutto dovete far capire che siete interessati a voi e poi fate in modo date la vostra migliore veste comunicativa mettete in evidenza i vostri punti di forza e poi lasciate che sia l'azienda a scegliere comunque ricordatevi che dovete anche andare a target perché se voi continuate a mandare ovvio che se Giulia chiedono formazione regolatoria per un ruolo da manager ti dico già non applicare proprio perché sei troppo fuori target ma se è per una posizione di due anni puoi comunque rispondere mettendo proprio in evidenza quello che tu già hai rispetto al ruolo sai prendo che non stai facendo quello e poi magari nel frattempo dici mi sono iscritta al corso di specializzazione dell'arma da Boris proprio perché voglio imparare la parte tecnica quindi anche lì metti il pezzo io però mi sto già spingendo a fare delle cose quindi è tutta questione di far capire come vuoi andare avanti poi aspetta che leggo anche altri commenti grazie figurati la mia azienda sta in struttura noi ho sempre lavorato a contatto con il regolatorio e mi piace che devo stare ad altra parte e poi mi sopporta mi fa piacere ma è Luisa anche lì è uguale è sempre lo stesso discorso metti in evidenza e schisse il spettacolo Vanessa scrive ma come il senso critico lo metti come in difetto Vanessa ma perché chi ti ha detto di metterlo come senso critico come un difetto è un criminale il senso critico serve nelle cose anzi è un punto di forza pazzesco mi si spezza il cuore a leggere queste cose grazie Laria si è regolatoria ragazzi quindi mi raccomando non autosabotatevi non autosabotatevi quindi obiettivo chiaro che cosa voglio soprattutto se avete deciso questa professione questa lezione questa chiacchierata vi serviva per avere voi più idee su questo ruolo se questo ruolo ve lo sentite vostro avete già l'obiettivo si tratta solo di capire come arrivarci valutazione delle risorse le risorse soft quali ho spunto spunto quelle hard quali mi mancano quali posso andarmi a prendere poi dopo che avete fatto e quindi qua aumentate la vostra employability e poi a quel punto diventa uno scrivere un cd come dio comanda faccio il culo quando scrivete cd mi scrivete male una bella lista mi sono laureato in avanguardia pura non dite in che cosa vi siete laureati io la laurea a parte che manco ce l'ho più in cd cioè direttamente gli ultimi master che ho seguito perché faccio prima mettere gli ultimi due perché ne ho quattro di master e mi sono pure descritta all'università per prendermi alla specialistica in psicologia del lavoro ma io manco li metto più i titoli in studio cioè proprio veramente i due master risicati rimando tutto all'inked dove ho tutto più dettagliato il mio cd la prima parte che conta è tutta la parte di presentazione generale in cui io mi racconto e c'è proprio scritto la mia prima fase del cd è la misura dell'intelligenza e da una capacità di cambiare quando necessario dico chi sono e poi poi alla fine un trafiletto in fondo 15 anni di esperienze in ambito regolatorio consulenze bla 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 faccio il career coach e il formatore l'ultima fase l'ultima prima mi racconto io chi sono qual è il vantaggio che tu hai a collaborare con me e poi ti dico in che cosa rigirate rovesciate il discorso perché lo volete fare perché pensate di essere un buon regolatorio anche se non avete esperienza come ha detto Giulia no lei ha fatto due esperienze quella di Cicco Analyst e quella adesso di informatore scientifico ma lei sente che può fare regolatorio bene quello è il punto su cui battere non scrivere che siete laureati perché ragazzi non c'è lavoro per laureati non sono laureati lì non c'è niente di vanguardia a meno che non avete il Nobel se avete il Nobel è poco probabilmente che fate regolatorio puntate su di voi che è molto più interessante sui vostri punti di forza e ti prego di dare il senso critico o anche no metterlo tra i punti difetti cioè vi si spezza il cuore mi si spezza il cuore a leggere il senso critico come difetto anzi Vanessa scusa no il senso critico è un punto di forza pazzesco criminale che vi ha detto di metterlo tra i difetti essere critici è un'altra cosa ciao Enzo mi hai fatto un colloquio l'anno scorso con la figura Erika ah questa è la seconda volta che becco qualcuno che gli ho fatto un colloquio che non è andato bene in genere mi scelgono dopo come coach quindi quindi mi raccomando ragazzi senso critico senso critico e ragionamento altre cose che mi volete chiedere io vi posso dedicare ancora a più 5 di città aggiungetemi ai vari social ho anche il canale youtube adesso dove parlo anche di queste cose c'è altro che volete condividere dai non vi smorite non vi smorite niente non c'è nel mio stecchino vi dico sempre quando a fine lezione va così o sono stata molto brava ho fatto pena allora visto che non volete avete esaurito tutto vi faccio io tre domande cosa vi è piaciuto di questa chiacchierata? grazie Maria allora dal mio punto di vista è stato molto chiarificativo diciamo perché è una figura quella del regolatorio che non conoscevo molto e sono in quel momento in cui uno deve capire in che direzione andare quindi sto valutando anche questa figura sono pienamente convinta perché appunto parteciperò anche ad altri incontri di questo genere che si soffermeranno su altre figure della microfarmaceutica quindi sicuramente mi ha dato una prima imparinatura di cosa aspettarmi nel caso appunto decidessi di intraprendere questo percorso chiaramente dovrei partecipare ad un master o comunque specializzarmi perché non ho assolutamente esperienza grazie Sara sì comunque ottima strategia quella di andare a vedere un po' le figure perché uno degli errori che fanno un po' spesso le persone è uscire dall'università dove manca l'orientamento e lanciarsi nel primo lavoro che beccano non finisce mai bene quando ti lanci così senza capire perché o trovi il lavoro sbagliato oppure se ti assumono in un lavoro che tu ti sei lanciato vuol dire che neanche loro hanno fatto una buona valutazione perché la possibilità che tu abbia avuto fortuna di aver beccato proprio il lavoro adatto a te è bassissima quindi la migliore soluzione è sicuramente fare un po' un punto capire che cosa fare perché quello è fondamentale è un po' come partire per una vacanza e non sapere dove vuoi andare vuoi andare in montagna o vuoi andare in città cioè vuoi andare a mare devi scegliere prima di tutto quello e poi decidi come arrivarci questo è il problema dopo la laurea la gente si lancia il problema è che poi si lancia e si trova a faccia a terra si trova i ruoli che non gli piacciono i ruoli che non vanno bene le aziende che non funzionano per loro eccetera eccetera grazie Sara qualcun altro vuole condividere cose che vi è piaciuto? cosa non vi è piaciuto? ah ok io sono arrivata tardi e quello non ti posso aiutare però se vuoi fare una chiacchierata mi puoi contattare avete tutti i miei contatti guardate ve li rimetto ancora perché sono troppo orgogliosa del mio QR code che l'ho fatto una sera stavo impazzendo ho detto ma devo fare una cosa ecco sostenibile perché mi hanno chiesto i bigliettini da visita era andato un evento mi hanno chiesto i bigliettini da visita non c'erano niente ho detto no ma io non posso far così allora ho deciso vabbè allora li faccio online e quindi adesso mi sono fatta questo QR code che ho sul mio cellulare quindi se qualcuno mi chiede il biglietto da visita io sono lì con il telefono che faccio così tieni guarda prendete il mio QR code oppure lo mando il link così e quindi se voi cliccate sopra vi escono tutti i miei contatti email, tutto tutto qui in tic tac sono troppo contenta di questa cosa mi sono fatta il QR code da sola bene cosa avreste voluto vedere di diverso? niente va bene allora sentite io i miei contatti vi ho lasciato seguitemi su tutti i social che volete andate pure su youtube che sto facendo un sacco di video se avete anzi video che secondo voi dovrei potrei aggiungere li aggiungo volentieri quindi scrivetemi pure e se volete farvi una chiacchierata con me contattatemi pure che volentieri la faccio con voi ok? grazie ciao a tutti grazie ciao ciao grazie a tutti 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.